ciao a tutti ciao siamo sul mio canale piacere mi chiamo loredana oggi sono qui con la mia amica tatiana perché vi vogliamo parlare di un argomento che a noi interessa tantissimo che sono i gruppi di acquisto ci siamo conosciute tramite un gruppo d'acquisto in particolare un gruppo d'acquisto fatto su instagram da lei io la seguivo da qualche mese in realtà e ho sentito una sua storia di instagram dove parlava proprio del fatto che voleva organizzare un gruppo d'acquisto in particolare per una borsa e quindi io gli ho scritto perché lei ha detto se siete interessate a fare questo acquisto in più persone scrivetemi io gli ho scritto e adesso ci siamo conosciute sì allora diciamo che questo gruppo d'acquisto è stato anche abbastanza cioè ha fatto anche un discreto successo non avrei mai pensato quindi oggi vogliamo raccontare un po' la storia di questo gruppo d'acquisto e se effettivamente abbiamo risparmiato qualcosa con questo gruppo d'acquisto che cos'è un gruppo d'acquisto allora spieghiamolo subito un gruppo d'acquisto è un gruppo di persone che si riunisce per fare un ordine collettivo su un sito o da un supermercato o anche da un produttore locale questo serve di solito a risparmiare innanzitutto un po' di soldi perché spesso gli ordini collettivi hanno degli sconti particolari magari raggiungendo una soglia di spesa il sito o il produttore mette in palio tra virgolette uno sconto quindi già questo è un motivo per partecipare ai gruppi d'acquisto inoltre si riduce anche il proprio impatto ambientale perché perché ogni ordine che viene fatto singolarmente spreca un determinato quantitativo di energia e di co2 che viene immessa nel pianeta quindi se compriamo in tante persone più pacchettini che vanno in case diverse tutto questo spostamento crea più inquinamento rispetto a fare un solo ordine che va in un solo posto e poi le persone tra loro se lo dividono in più è molto più utile fare un gruppo d'acquisto ed è anche carino secondo me perché ci si può conoscere si crea proprio una comunità ed è molto bello da fare tra l'altro è molto utile quando si fa in una stessa città ad esempio lei l'ha fatto nella zona di Milano e quindi poi dopo le ragazze sono venute a casa sua e sì ci siamo incontrate chi a casa chi a lavoro insomma abbiamo trovato dei momenti in cui potevamo scambiarci gli ordini esattamente nel mio caso io sono l'unico caso particolare perché io sono di Bologna e quindi le ho scritto ci siamo messe d'accordo e alla fine sono qui finalmente questa è la borsa in questione della marca c'è ancora l'etichetta perché lei la sta ritirando oggi da agosto praticamente dicendo e lei sta ritirando adesso la borsa però in realtà abbiamo scelto questa marca perché si chiama Barry Handbags in realtà è inutile che vi diciamo il nome perché sta cambiando nome questa marca però vabbè questa borsa praticamente l'abbiamo scelta perché perché io avrei preferito trovare una borsa di seconda mano oppure una borsa fatta con materiali che fossero sia ecologici sia rispettosi degli animali quindi vegani e cose di questo genere non è stato molto semplice devo dire la verità e quindi ho scelto una borsa che mi è comparsa in realtà casualmente su Instagram che è questa qui perché sosteneva un progetto solidale per salvare i bambini dalla schiavitù sessuale quindi ho deciso di prendere questa non tanto per i materiali in sé ma per il progetto e quindi siccome poi è piaciuta anche a Tatiana l'abbiamo deciso abbiamo deciso di comprarla assieme qualcuno ha comprato un portafogli qualcuno ha altri tipi di borsa e noi invece guarda caso abbiamo deciso di scegliere la stessa borsa quindi ce l'ho io e ce l'ha anche lei neanche farlo apposta ci è piaciuta la stessa borsa e abbiamo preso questa comunque ve ne parliamo meglio poi nell'altro video vi spieghiamo anche perché andate per il suo canale che vedrete tutto il suo canale certo che poi trovate sotto e tutto sapete già tanto se siete utenti di YouTube voi lo sapete dove andare a cercare le informazioni poi alla fine dobbiamo dire anche questa cosa cioè noi in realtà non abbiamo risparmiato con questo gruppo di acquisto assolutamente e ora vi spieghiamo anche perché in modo che se voi decidete di organizzare dei gruppi d'acquisto non fate il nostro stesso errore mi piaceva l'idea di fare il gruppo d'acquisto ma ero ancora un po' a digiuno di queste cose perché io ho sempre ordinato solo per me stessa prima di questo gruppo e quindi non avevo idea che poteva succedere quello che è successo a noi cioè abbiamo fatto questo bel gruppo per dividerci le spese per pagare di meno e tutto quanto però questa marca era una marca americana quindi la borsa è arrivata dall'America abbiamo pagato un botto di spese doganali perché gli ordini che superano un certo importo sono molto più soggetti ad essere controllati dalla dogana il problema è stato che poi con queste spese doganali c'è stato proprio un salasso perché sono arrivati tipo 150 euro di spese doganali quindi il nostro consiglio è se decidete di fare un gruppo d'acquisto acquistate all'interno della zona euro evitate di prendere cose dall'America o da paesi in cui ci potrebbe essere una tassa doganale perché rischiate di perdere l'utilità del gruppo d'acquisto quindi in questo caso il gruppo d'acquisto non è servito tanto però abbiamo deciso di condividere la nostra esperienza per aiutare anche chi volesse farne in futuro a non fare il nostro stesso errore anzi, come vi potete organizzare per fare un gruppo d'acquisto? ci sono vari modi in realtà l'importante è raggruppare delle persone che sono interessate a comprare quello che decidete di comprare voi quindi possono essere, non so, gruppi condominali ci sono persone che fanno la spesa di condominio con i gruppi d'acquisto ci sono gruppi Facebook lei appunto ha creato il modo di farlo anche su Instagram quindi attraverso una storia oppure attraverso un post anche attraverso YouTube stesso si potrebbe provare a organizzare magari proprio anche voi che ci state guardando se siete interessati potete proporlo sotto nei commenti poi magari nel caso noi vi reindirizziamo da qualche parte stavamo pensando di creare un gruppo di Facebook dove chiunque di voi abbia voglia di fare un gruppo d'acquisto può scrivere e può proporre il suo gruppo d'acquisto nella sua zona per esempio fateci sapere nei commenti se vi può interessare noi apriamo questo gruppo ci farebbe davvero tanto piacere poi un'altra cosa da ricordare i gruppi d'acquisto non servono solo per comprare borse o comunque oggetti che non ci servono tutti i giorni sono anche molto utili per comprare il cibo la frutta, la verdura ho visto che anche Coop organizza questi gruppi d'acquisto quindi se siete interessati magari vi lasciamo qualche link diciamo che in realtà è proprio una questione che serve ad eco risparmiare cioè il tema fondamentale di questo blog e questo canale se ormai mi seguite da un po' lo sapete è proprio quello di ridurre i propri sprechi sia economici che ecologici quindi diciamo che questo è proprio un modo fondamentale in cui io sono riuscita a diminuire in generale le mie spese e il mio inquinamento quindi in conclusione noi consigliamo vivamente i gruppi d'acquisto con l'accortezza di rimanere nell'Europa ecco perché è più sicuro anche a livello di yoga se vi interessa seguirci comunque noi vi faremo sapere anche sui social come si svilupperà questo progettino, questa idea quindi continuate a seguirci e fateci sapere perché più feedback abbiamo più riusciamo a capire come aiutarvi ad eco risparmiare quindi ci vediamo sul suo canale e alla prossima alla prossima ciao ciao